Ben trovati amici di Auto Occasioni, siete oggi in compagnia con Golden Garage, parto subito con l'indirizzo, siamo in strada Carignano 54 a Moncalieri. Qui da noi troverete auto e moto con l'opportunità di permutare la vostra auto o la vostra moto con qualsiasi dei nostri prodotti. Eseguiamo questo servizio anche qualora il veicolo che abbiate da dare indietro sia di valore superiore rispetto a quello che venite ad acquistare. Vi daremo ben volentieri la differenza per contanti e non solo, nel caso in cui vogliate monetizzare pagheremo per intero il vostro prodotto e andremo a finanziarvi il nuovo acquisto. Ora passerei subito alle moto con tantissime occasioni dicendovi che siamo specializzati nel marchio Harley, avete tanti tanti prodotti a vostra disposizione da venire a visionare e scegliere per un eventuale acquisto o un eventuale permuta, ma non solo, andiamo a scoprirli. Come dicevamo prima partiamo da due splendide Harley, partiamo con due splendidi V-Road nella precisione, tantissimi altri prodotti, originali e non, si sa che con le Harley in Davison ne si vede di tutti i colori. Abbiamo una splendida Street Glide, una fantastica Road Glide Special, un prodotto veramente molto molto di nicchia con oltre 30.000 euro di modifiche eseguite. Altro prodotto di nicchia, un fantastico Sidecar, si parla di un Elettra Ultra Classic, un prodotto veramente particolarissimo, credo uno degli unici in Italia in vendita. Altro modello particolarissimo, si parla di un Road King CWO, veramente pari al nuovo, accessoriatissimo. Non solo Harley, parlando di Naked, Buell, Ducati, MW, prodotti come BMW R1002R, veramente un classico della BMW che sta prendendo piede. Ancora parlando di BMW, un introvabile C1 e di sicura rivalutazione storica. Ancora parlando di storico, un introvabile Goldwing 1000, totalmente originale. E ancora continuiamo con prodotti particolari, si parla di Can-Am, si parla ancora di uno splendido Go-Kart, monomarcia con accensione elettronica. Un Quad pari al nuovo, si parla di un Aeon Cobra con meno di 100 km. E passando alle quattro ruote, nel particolare, una splendida Smart Crossblade con soli 15.000 km a un prezzo eccezionale. Venitelo a scoprire in sede. Passiamo alle vetture, passiamo subito su un prodotto spettacolare, si parla di Mini John Cooper Works, introvabile in questa colorazione, 50.000 km, davvero da venire a scoprire in sede per il prezzo formidabile. Passiamo ad una Renault Clio, una versione Gordini, edizione numerata, edizione limitatissima, si parla di un prodotto con 50.000 km anche qua, tagliandati, garantiti e permutabile. Di Abarth ne abbiamo una sfilza non indifferente, spenderei qualche parola proprio su quella che avete visto in apertura. Un prodotto da oltre 360 CV, oltre 30.000 euro di modifiche tra meccanica, interni ed estetica, ed è un prodotto da venire a scoprire in sede perché ne abbiamo da parlare per ore per farvi vedere qualsiasi dettaglio. Ne abbiamo comunque molte altre, partiamo da una 2008, incredibilmente accessoriata, anche questa supera i 200 CV, una totalmente originale del 2018 con soli 8.000 km, ovviamente già edizione restyling. Una 2016, replica Biposto, wrappata grigio opaco, moltissimo carbonio, assetto, cerchi, scarico sportivo, versione turismo di base ma anche questa con circa 200 CV. Una 135, totalmente originale, unico proprietario, appena manutenzionata, ricordo tutti i nostri prodotti sono permutabili con la vostra auto e la vostra moto. Ancora Abarth, parliamo di una punta Evo, quasi superano i 220 CV, turbina, aspirazione, scarico, davvero moltissimi accessori anche per questa vettura, permutabile col vostro usato, lo ricordo. Passiamo ad una Mito, 155 CV, 1.4 turbo, anche questa con la meccanica appena tagliandata. Sempre Alfa Romeo, sempre motore 1.4 ma 170 CV e cambio automatico per questa Giulietta con soli 50.000 km e terminiamo la carrellata sulle Alfa con una spettacolare 147 GTA, diventato ormai un mezzo introvabile di sicura rivalutazione storica e ad oggi in delle condizioni davvero da scoprire in sede. Ci spostiamo sulle tedesche, abbiamo due splendide Golf, un 1.6 turbodiesel 110 CV ma in condizioni eccellenti e soprattutto molto particolare, cerchi da venti omologati ma sono omologati anche i 18 e i 19, interno della versione GTI, scarico sportivo, fari a LED davanti e dietro e tantissimi altri accessori. Altro Golf si parla però di un GTI, un prodotto del 2005, formidabile il prezzo, anche qui, ricordo, permutiamo il vostro usato. Ancora tedesche, passiamo ad una splendida classe A, si parla di una 45 MG, già versione Restyling, 381 CV, super accessoriata. Altra particolarissima S1, 30.000 km e 2017 l'anno di immatricolazione. È arrivato il momento di parlare di cabrio, si comprano meglio in questo periodo, troverete un SLK con soli 2.000 km reali anno 2012 e uno spettacolare Z4 a un prezzo formidabile. Ancora, parlando di macchine particolari, una Peugeot RCZ, direi pari al nuovo e si parla di una cifra incredibile 8.900 euro. Passiamo a dei prodotti più di nicchia, prodotti di una fascia amatoriale. Si parla di M1, un prodotto con 30.000 km documentati, ricco di carbonio, scarichi sportivi, assetto corsaiolo, interamente tagliandato in casa madre, certificato e garantito. Altra vettura in condizioni simili, addirittura a meno chilometri, 20.000 per questo M2, sempre di casa BMW, una 4,35, ideale per questo periodo perché seppur una sportiva coupé è dotata di trazione 4x4 intelligente, si parla di un X-Drive con 60.000 km, unico proprietario, fatturabile con Ivesposta. Altra vettura introvabile sul mercato dell'usato, una M6, parliamo di una versione cabrio, 100.000 km, interamente tagliandata in BMW, cambio nuovo e tantissimi accessori da scoprire perché è una vettura che superava i 180.000 euro da nuovo. Sempre parlando di M, sempre parlando di cabrio, Z4, un prodotto unico proprietario con soli 79.000 km, tagliandato, certificato e garantito. Ancora un cabrio particolarissimo, passiamo a casa Mercedes, un SL55 AMG, una versione compressor da 475 cavalli, primissima serie anno 2002, quindi molto vicino alla storicità e anche questo un prodotto di sicura rivalutazione storica. Altro prodotto AMG, si parla di un CL63, un prodotto decisamente più recente, anche qui si sfioravano i 180.000 euro di costo nuovo, qui alla Golden Garage a un prezzo di 44.900 euro. La carrellata Mercedes termina su una CLS, un 250 turbo diesel, tagliandato garantito e permutabile. Apriamo questa volta su una splendida Smart, 1900 km, cabrio, super accessoriata, il prezzo è formidabile, 16.900 euro. Tanti prodotti esclusivi, parliamo di Subaru, parliamo di un prodotto con 60.000 km, di cui da soli 10.000 km monta un motore Cosworth. Preparazione estrema, 420 cavalli, introvabile in queste condizioni, oltre 20.000 euro spesi su questa vettura. Di Ferrari ne abbiamo una sfilza, fuorché il primo che custodiamo gelosamente, tutti gli altri sono a vostra disposizione. Parliamo di 4.30, ne abbiamo due disponibili, uno splendido 3.60 in condizioni maniacali, un introvabile 3.55, verde, interno beige, già F1 con soli 30.000 km. 4.56, ne abbiamo due a vostra disposizione, uno con interno beige e uno con interno nero. Mondial, 208, 308, Dino, Lancia Delta Integrale, parlando di auto d'epoca ne abbiamo altre a vostra disposizione. Lancia Fulvia, BMW M5 Anno 89, una splendida Jaguar XK, un prodotto incredibilmente pari al nuovo, una splendida Croma con soli 115.000 km, un introvabile Giulietta Autodelta. Tantissimi prodotti, continuiamo sulle supercar, un Jaguar XKR, si parla di un cabrio in condizioni ottime, parliamo di Maserati, un cambio corsa altrettanto in condizioni ottime con 70.000 km. Passiamo a un prodotto più recente, si parla di Porsche Boxster 3.4, già da 295 CV. Di Porsche anche qui ne contiamo davvero tantissimi, 996 Turbo S, 997 S cabrio, 991, ne abbiamo diverse a vostra disposizione. chiedeteci quello che state cercando, saremo in grado di reperirvelo nel caso in cui non lo avessimo in casa. Prima dei saluti, vi auguro buone feste e vi ricordo che guardando sul sito troverete anche tutti i nostri fuoristrada, parliamo di Jeep Wrangler, parliamo di Jeep Grand Cherokee, ne abbiamo diversi a vostra disposizione. Hammer ne abbiamo diversi a vostra disposizione, Cayenne ne abbiamo diversi a vostra disposizione, visionate il sito, chiamatemi, sarà a vostra disposizione e vi aspetto anche in sede. A presto!